Buongiorno a tutti, benvenuti su investire.biz e ben ritrovati anche quest'oggi alla rubrica Caffè e Mercato, un saluto come sempre da Riccardo Zago, allora andiamo subito sul sito per vedere i primi articoli di oggi, ricordo anche che essendo mercoledì alle ore 16 c'è il trading live e come ogni settimana potete iscrivervi dalla sezione appuntamenti ed ecco qui, le iscrizioni sono aperte, potete iscrivervi qui sotto ricordo che questo è un servizio a pagamento che però diventa gratuito nel momento in cui aprite un conto con il broker Kimura Trading bene, andiamo subito sulla home per vedere gli articoli di prima mattina allora abbiamo Turbo Daily con Paolo, DAX attendiamo rimbalzo dai minimi mentre West Decad Long torna interessante con arrivo sui supporti infatti il livello di 1.3 è a mio avviso interessante andiamo quindi subito sulla piattaforma del broker Kimura Trading per analizzare i principali strumenti partiamo chiaramente da Bitcoin Bitcoin che continua a salire ha superato anche il livello di 18.000 la zona dei 17.000 manco se l'è filata cioè proprio i prezzi sono saliti con forza e hanno superato 18.000 andiamo a vedere quali sono quindi i prossimi target e chiaramente il prossimo target si trova in area 19.485 comunque la zona dei massimi storici per Bitcoin attenzione io invito alla cautela per tutti quelli che fanno trading di breve termine attenzione a comprare a questi livelli ok che lo dico da un po' di tempo e sta continuando a salire ma è un movimento abbastanza parabolico cosa che non è che mi piaccia particolarmente quindi facciamo attenzione secondo me il ritracciamento ci sarà non possiamo sapere se qui o dai massimi però facciamo attenzione e operiamo con cautela se vogliamo invece operare nel brevissimo allora possiamo andare sul time frame orario individuare ritracciamenti come questo per entrare poi in posizione però mi raccomando sempre stop loss in macchina andiamo avanti dobbiamo assolutamente vedere due strumenti nuovi stiamo osservando il cross valutario CHF Yen non è ancora il momento di operare però io lo attendo su questa zona supportiva eccola qui in area 113.80 113.90 per valutare poi un long però di questo ne parleremo anche oggi al trading live qualora invece i prezzi dovessero rompere scusate questa zona supportiva potremo andare a ricercare scusate un nuovo long a 113.40 bene dopo CHF Yen anche GPP USD facciamo attenzione perché dopo il test del livello di questa zona supportiva 1.31.53 io mi aspettavo che i prezzi scendessero fino a 1.30.80 invece no, sono tornati a salire siamo sui massimi precedenti in area 1.32.80 1.33 attenzione al livello di 1.33 zona resistenziale molto interessante quindi anche da qui si può prendere un piccolo short con obiettivo almeno in area 1.32 facciamo però attenzione all'operazione contro trend la sterlina comunque continua ad apprezzarsi una volta rotta la zona degli 1.33 allora potremmo andare a valutare di comprare la sterlina andiamo avanti perché abbiamo da aggiornare anche West di CAD dove siamo in posizione come sapete da un po' di giorni al ribasso ieri un piccolo rimbalzo che ha portato alla chiusura sopra dei prezzi di sopra del livello di 1.31 oggi però subito si scende il livello più importante da rompere però è questo l'abbiamo già visto ieri questa fascia compresa tra 1.30 e 67 1.30 e 70 a 1.30 e 65 bene una volta che i prezzi romperanno questa zona supportiva potremmo anche valutare di incrementare le posizioni andiamo a concludere l'analisi di quest'oggi con euro-dollaro anche qui il cambio valutario ha raggiunto i massimi precedenti in area 1.19 facciamo attenzione perché a mio avviso da qui il dollaro potrebbe apprezzarsi quindi nel breve periodo come sapete io sto sfruttando questo trend laterale quindi essendo arrivati sulla zona superiore abbiamo venduto quindi euro-dollaro poi aggiorneremo l'operatività all'interno del gruppo Traders Club bene io con questo concluso vi aspetto quest'oggi al trading live delle ore 16 buona giornata e buon trading a tutti